Allora, la strada verso l'elettrificazione oramai è tracciata. Mercedes-Benz ha un chiaro obiettivo, quello di arrivare al 2039 e produrre in quel momento soltanto automobili carbon neutral. Che significa? Significa prive di carbonio. Non immetteremo nell'atmosfera un microgrammo di carbonio in più. E questo lo faremo con automobili elettriche, con automobili a idrogeno e con i carburanti sintetici. E nella strada per arrivare al 2039 abbiamo due tappe. Nel 2030 quando venderemo il 50% di automobili ad alta elettrificazione elettriche o ibride plug-in e nel 2025 quando ne venderemo il 25%. Questa forse è la volta buona, perché l'elettrico sta crescendo raddoppio ogni anno e la previsione di crescita oramai è data da tutti gli analisti come oramai inarrestabile. Dietro alle mie spalle vedete una EQC, che è il nostro SUV di grandi dimensioni, completamente elettrico. 400 cavalli, 400 chilometri di autonomia, 5 secondi per passare a 0-100. Quindi tanti elementi molto positivi che dà la guida elettrica. Oltretutto queste automobili elettriche sono molto fluide, molto morbide a guidare e il peso delle batterie in termini di guidabilità è molto efficace perché le batterie e il peso di 700 kg è nella parte bassa, che quindi dà una sensazione di grande tenuta di strada. Com'è il modo migliore per comprare queste automobili? Non è sicuramente quello di comprarle in contanti, perché sono piuttosto costose. Ma se facciamo un leasing, un noleggio, ci rendiamo conto che la situazione si ribalta e queste macchine diventano anche spesso più convenienti delle equivalenti automobili a benzina o a gasolio. Perché tutti i vantaggi di questa alimentazione vengono considerati? Quindi un maggior valore residuo prospettico, il fatto che non si pagano il bollo e l'assicurazione e la manutenzione sono molto ridotti rispetto ai motori a benzina. Quindi questo è il consiglio che vi do. E opportutto questa macchina, per quanto riguarda la ricarica, ha un dispositivo di tecnologia all'interno che è molto molto utile. Noi lo chiamiamo Mercedes Mi Charge. Nel navigatore voi vedete in Europa tutte le centraline di ricarica e su questa macchina avete la possibilità di andarci senza bisogno che voi vi compriate tutte quante le tessere dei vari operatori. È esattamente come se fossero il telefono. Quando voi andate all'estero andate in roaming, quindi vuol dire che la vostra società, il vostro service provider, ha fatto un accordo con gli altri operatori in Europa. È la stessa cosa. La macchina riconosce e viene riconosciuta automaticamente dalla centralina. Attaccate il cavo e automaticamente a fine mese vi arriva la fattura sulla vostra carta di credito e arriva via mail presso l'indirizzo che avete dato, che magari può essere la vostra azienda, delle ricariche che avete effettuato. Questo per farvi capire quanto effettivamente l'elettrificazione e la tecnologia sta aiutando questo processo che oramai è inarrestabile.